Sono Lorenzo Gregori e sono un videomaker. Ho frequentato Mall nel biennio del 2017-2019, precisamente il corso appunto di filmmaking. La mia esperienza qui è stata ultra positiva, è quella che tuttora io definisco la mia casa, il posto dove sono felice di stare quando torno, perché torno molto spesso, a dire tutta. Quindi niente, la mia impressione di questa scuola è per forza di cose un'impressione positiva, un luogo dove si riesce a creare, un luogo dove si riesce a fare. In questo momento sono un videomaker freelance, mi occupo di videomaking a 360 gradi, dalla ripresa all'editing finale. Nell'ultimo anno e mezzo ho lavorato per Jesse, che è una società di rubinetteria, spa e wellness, dove ho recuperato appunto il ruolo di videomaker aziendale. Diciamo che la cosa più importante che mi ha lasciato Mall è stata l'empatizzare con le persone, lo scambiare delle idee, avere a che fare con persone di vario tipo che in ogni caso lavorano nello stesso settore. Questa è una cosa fantastica. Il consiglio che devo dare è vivi al 100% il contesto sociale che si crea in questo istituto. Non sembra, ma da chi ti sta intorno si impara tanto. Questo sono io e faccio un grande in bocca al lupo a chi si iscriverà in Mall. Ciao! Grazie a tutti!